Salve a tutti fioi, io sono il professor Telone e bentornati tutti dalle vacanze per questa lezione speciale sulla storia di Venezia. Gavarei notà che il vostro libro di storia, il Zestà Giornà, e gli ha aggiunto nuovi capitoli sulle battaglie di Venezia, famose perché il nemico ne voleva rubare i segreti della nostra cusina, no cugina, cusina, quella che si mangia, forza fioi avanti. Gavarei ricette segrete come i bigoli in salsa, risi e bisi, le sarde in saor, le moeche, la polenta e schie, la pasta e fasioi, e ovviamente i spaghetti alla busera, tutte ricette che ancora non si capisce cosa cazzo che si è dentro, ma si mangia comunque perché le si è buone. Ma io perché faccio le intro parlando di cibo quando non mangerò per altre tre ore che ho una fame assurda? Ma sarò pirla pure io. Allora, come avrete capito dalla intro alquanto venisciana, nei limiti del possibile non sono molto bravo con i dialetti, hanno aggiornato effettivamente Touchally Accurate Battle Simulator, oggi col 30% di Venezia in più. Ed effettivamente se andiamo sulla sandbox vedete che hanno aggiunto il rinascimento per l'appunto nella nostra bellissima Italia, ma soprattutto hanno aggiunto anche una campagna dedicata che ci andremo casomai a scoprire nei prossimi episodi. Adesso voglio assolutamente vedere la nuovissima mappa di Venezia, guardate i fiori sono la gebea, i gaffato veramente un ottimo lavoro, che c'è tanta cura per i dettagli, come potete vedere, c'è una mappa molto italiana, i gamesho anche, e gondoete, va che spettacolo il canal grande. Ok, meglio che la smetto perché sto finendo il vocabolario e mi sto facendo parecchi nemici sul territorio italiano. No davvero, guardate il livello di cura e dettagli di questa cavolo di mappa, è bellissima! È davvero una delle più curate che abbiamo mai incontrato. Aspetta, ma qui si può anche entrare? Oh, buongiorno, posso entrare nelle case dei veneziani? Ah, guardate, ci sono i terrazzini dei nobili, perché loro da qui assistevano alle battaglie in piassa. Ma che spettacolo! Ma è bellissimo con tanto di statue, no vabbè. Possiamo mettere le unità direttamente qua sopra, come ad esempio gli arcieri, che attaccheranno ovviamente tutti quelli che sono qua sotto. È una mappa un po' piccolina, ma per buona parte delle battaglie, casomai ce la faremo bastare. Hanno anche aggiunto un paio di unità segrete. Se ho capito bene, una si trova direttamente qui nella mappa di Venezia. E, aspetta un secondo, che cavolo è lassù? Non mi dire che abbiamo beccato la prima unità segreta. Ah, buongiorno, scusate, c'è un signore volante. Una delle nuove unità segrete, vediamo un po' di sbloccarla. E voilà, perfetto, abbiamo sbloccato il baluner. È un tizio con un pallone aerostatico minuscolo sopra, che probabilmente tirerà sulle unità e le butterà di nuovo di sotto. No, vabbè. Ed in effetti, se andiamo nella sezione del rinascimento, potete vedere che hanno aggiunto tantissime nuove unità, che possiamo andare a vedere molto velocemente. Allora, qui abbiamo il pittore, che è il nemico numero uno dei daltonici. Lui ti dice, questo colore è rosso o blu? Tu non riesci a capire perché sei daltonico e il tuo cervello si scioglie. Qui abbiamo invece il fencer, che come potete vedere è armato di un lungo stocco. Potrebbe essere un'unità molto pericolosa, soprattutto se in grado di parare i colpi dalla distanza. Questa è l'unità più interessante, ed è l'arciere che spara i palloni aerostatici. Piccoli palloni che in teoria dovrebbero sollevare in cielo e poi ributtare a terra le varie unità. Qui abbiamo il moschettiere, signore, c'è chiaramente un problema agli occhi, che è la prima e vera e propria unità del gioco, che spara effettivamente dei proiettili. Qui si dà la distanza, saranno veramente formidabili. Presumo che saranno ovviamente lenti a ricaricare. Qui invece abbiamo un signore armato di alabarda, chiaramente non spaziale. Come potete vedere potrà attaccare da una certa distanza, il che gli darà un bel vantaggio tattico. Sembra anche un attimino corazzato. Presumo che quando quell'arma si abbatterà sul nemico, potrebbe riuscire addirittura ad uccidere all'istante. Ci serviranno un po' di figli di Franco. Da questa parte abbiamo il giostratore con il suo cavallo. Vi ricordate nell'epoca medievale, quando il re sannoiava, indiceva una giostra, che adesso vuol dire che portiamo i bambini a divertirsi. All'epoca era gente che si trucidava male male. Aveva questa specie di lunga lancia che se ti pigliava sul petto ti apriva in due. Quindi presumo che anche questo signore caricherà con il suo cavallo il nemico e probabilmente lo trafiggerà di brutto con la sua lancia. Bella bestiola. Ed infine il protagonista del rinascimento, ovvero il carro del signor Da Vinci, che era veramente un'invenzione del caro buon Leonardo. Come potete vedere è circondato completamente da cannoni da qualunque parte. Presumo sarà un'unità lenta ma pesantemente corazzata. Eh, c'è il signor Da Vinci dentro. Signor Da Vinci, salve, come va? Tutto bene? Ma dimmi te, questa bestiola praticamente scatenerà l'inferno sul campo di battaglia. Allora, visto che siamo a Venezia e ai fioi che piace il carnevale, mandiamo un pochettini dei fioi de franco a godersi il carnevale de Venezia. Una trentina dei fioi de franco sono più che sufficienti. A questo punto, siccome ai fioi che piace i palloncini, mettiamo da quest'altro lato un pochettino dei arcieri che lancia i palloncini direttamente ai fioi, che si divertirà tantissimo. Stiamo per assistere a una pioggia dei fioi de franco che sarà qualcosa di bellissimo. Ecco che partono le frecce e hanno trafitto buona parte dei ragazzi. No, vabbè, li sollevano all'istante. Guarda che roba. Ok, il problema è che ci sono ancora tanti figli di franco che vogliono avere anche loro i palloncini. Ma ecco che arriva subito una nuova dose di palloncini. Presumo che si romperanno tra un po'. Oddio, vanno tanti in alto e li ributtano giù. E li ributtano giù. Oh mio Dio, penso che i figli di franco si siano fatti malissimo. Ma è bellissima su unità. Eh, vabbè, a sto ragazzo gliene è andati quattro. Guarda che roba. Piovono figli di franco come non ci fosse un domani. Ma è bellissima su unità. Oddio, alcuni come potete vedere sono periti a quanto pare. Erano allergici al lattice dei palloncini. Sembra proprio che per i figli di franco non ci sia speranza. E continueranno a precipitare malissimo qui al carnevale di Venezia. Eh, potete vedere che effettivamente sono morti tutti malissimo. Però si sono divertiti un sacco con i palloncini. Beh, più o meno, eh. Alcuni sono stati trafitti male male. In parti del corpo che ancora non sapevano come utilizzare. Stunità è potentissima, ragazzuoli. Oh mio Dio, aspetta un secondo. Saranno effettivamente in grado di far volare i cavalli? Il problema è che i giostratori hanno dei cavalli che sono belli veloci. E caricheranno subito il nemico. Come potete vedere sono tanto veloci. Sono anche un pochettino svarionati. Ma vabbè, dettagli. Ok, ecco che il nemico ha lanciato le frecce. Sì, ma con quale mira? Ok, sono riusciti a affiggere il cavallo. Vediamo un po' se rimane sollevato. Eh, neanche troppo. Oddio, gli hanno rovinato la carica. Questo no. Uh, questo ha trafitto in pieno signore. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Cos'è? Diventato improvvisamente un film di arti marziali. Cos'è? C'è il cavallo che sta prendendo a calci tutte le unità. Va che macello? Va che macello? Oddio, oddio, oddio. Non ce la fanno. C'è il cavallo che prova a riatterrare. Ah, 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 ah. Ma è bellissima sta battaglia. I cavalli fanno anche un giro abbastanza lungo. Oddio, aspetta che non mi finisco sul canal grande. Che se no il cavallo mi affoga ed è brutto. Ok, da questa parte come potete vedere il cavallo è stato trafitto ed è morto. Poverino. Era un cavallino curioso. E il signore è sceso da cavallo e adesso attaccherà le unità manualmente. Ah, penso che non ce la faranno. Signore, signore decisamente non la vedo bene. Ecco che riprecipita. Ah, ah, si è spezzato le gambe. Sì, è morto malissimo in effetti. Resta un ultimo signore da questo lato che ancora riesce a resistere misteriosamente. Ed infine è morto malissimo. Queste unità sono decisamente troppo overpower. Ok, basta regalare palloncini al carnevale di Venezia. Vediamo di testare la potenza dei moschettieri. Dovrebbero poter attaccare dalla distanza. E penso fare anche un bel po' di danni. Presumo, come dicevo, che dovranno ricaricare le loro armi. Cosa che richiederà un bel po' di tempo. Allora abbiamo 11 moschettieri da questa parte. Vediamo un po' se saranno abbastanza veloci da abbattere. Ehm, mettiamo 4 cavalli. Oddio, è una battaglia abbastanza impari. Quindi, casomai, sponiamo giusto un altro po' di moschettieri. Non so quanti colpi serviranno per abbattere i cavalli. Che la giostra abbia inizio. Ok, i cavalli sono partiti. Oddio, un cavallo sta puntando da un'altra parte. Cavallino, dove stai andando? Oddio, l'hanno trafitto malissimo. Guarda che roba. Il cavallo sta finendo nel canale grande. Scusate. Il cavallo non credo sia in grado di nuotare. Oddio, so che più o meno ce la fanno. Ma come potete vedere, la corrente lo sta trasportando indietro. Oddio, oddio non ce la fa. Sta provando a tornare indietro. Oddio, non penso che ce la possa fare, in effetti. Cos'è accaduto? Ehm, gli altri cavalli invece sono morti malissimo. No, ce n'è ancora uno laggiù. Che sta tentando effettivamente di affrontare tutti i moschettieri. Oddio, oddio la mira. Sì, ma dove avete sparato voi altri? Il cavallo c'è morto malissimo. E il signore l'ha seguito a ruota. Da quest'altra parte cos'è successo? Dove è finito il signore? Allora, il signore è qui. E il cavallo è stato spinto in là dalla corrente. Questa battaglia decisamente non è andata, come avevo previsto. Beh, direi di lasciare stare i cavalieri per adesso. Visto che queste unità sono davvero molto potenti con i loro proiettili. Saranno in grado effettivamente di trapassare lo scudo dei cavalieri? Mettiamone magari cinque da questo lato. E vediamo se effettivamente riusciranno a difendersi dalla potenza di fuoco dei nostri moschettieri. Oddio! E neanche troppo, eh! E neanche troppo! Un paio di tizi credo siano morti. Sì, 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 sono morti letteralmente. Tre sono morti sul colpo! Va che macello! A quanto pare i proiettili sono in grado di trapassare il metallo dello scudo dei cavalieri. Che adesso proveranno ad avanzare. Come potete vedere i moschettieri stanno tentando di ricaricare le loro armi. Non appena li abbasseranno potranno rifar fuoco. Oii! Un signore è stato abbattuto all'istante. Resta l'ultimo. Si è buttato! Si è buttato! Rischia tutto! Uno li ha portato nella tomba. Ma poi tutti gli altri l'hanno ucciso malissimo. Signore! Non si vede neanche il signore. Signore, lei è ancora vivo. È ancora vivo! Credevo che il suo collega gli avesse effettivamente sparato sulla schiena. Dannazione! Ci deve essere qualcuno in grado di fermare la potenza dei moschettieri. E credo di aver capito chi potrebbe farcela. Stiamo parlando dei samurai. Vi ricordate? Con la loro katana sono stati in grado in passato di fermare le frecce. Ma il proiettile è decisamente molto più veloce. Quindi scopriamo subito se ce la faranno effettivamente. A fermare al volo l'arrivo di un proiettile. Che la battaglia abbia inizio. Ok. I moschettieri si preparano a far fuoco. Diamo un'occhiata e... Oh! Ce l'hanno fatta! Come potete vedere sono riusciti a rimandare indietro i proiettili dei moschettieri che si sono abbattuti sugli edifici. Se qualcuno stava guardando sarebbe probabilmente quasi morto. Non tutti ce l'hanno fatta. Potete vedere che il samurai nabbo del gruppo è stato ucciso male male dai colpi. Ora i moschettieri dovranno ricaricare le loro armi. Il che darà abbastanza tempo ai samurai per avanzare. Vediamo se ce la fanno. Forse ce la fanno ragazzi. Occhio a non finirmi in acqua. E possono cercare di trafiggerli tutti. Oddio! Qualcuno è rimasto ferito come potete vedere dai proiettili dei moschettieri. Ma genericamente li hanno praticamente trafitti tutti. Oh! Finalmente l'avanzata dei moschettieri è stata fermata dalla potenza molto giappa dei samurai. E fu così che il Giappone salvò Venezia. Ammetto i giostratori con i loro cavalli sono veramente delle unità difficili da fermare. Ma secondo me se gli schieriamo le unità della dynasty, ovvero gli arcieri con i fuochi d'artificio, in teoria grazie alla potenza delle loro armi dovrebbero riuscire a rallentare l'avanzata dei cavalieri. Allora abbiamo 30 unità da questo lato contro 4 cavalieri. Saranno abbastanza numerosi per riuscire effettivamente a rallentare l'avanzata del nemico. Ok i cavalieri si stanno avvicinando ma gli arcieri hanno fatto fuoco. Ce n'è sempre uno che si butta nel canal grande. Si vede che il cavallo ci aveva sete. Ma come potete vedere in effetti se gli sparano abbastanza fuochi d'artificio li fanno indietreggiare. Da quell'altro lato invece il signore è riuscito a schivare buona parte dei colpi e si sta abbattendo contro le pareti. No volevo dire effettivamente contro gli arcieri. Dove è andato a bloccarsi signore? Signore dove sta andando? Ci sta provando, ci sta provando. Oddio, 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 si è imbizzarito male il cavallo. Sta addirittura a volare. E vabbè, stava addirittura volando. Cos'è successo qua? Va che macello. Gli altri devono essere periti. Dove sono finiti? Ma sono finiti tutti sul canal grande. Ammetto che questa scena ha qualcosa di epico comunque. Guardate che spettacolo. E come potete vedere il cavaliere da questo lato è stato effettivamente l'inventore della dub. Ma dimite. Venezia era davvero molto avanti. Ottimo allora. Vediamo anche di testare un pochettino di soldati armati di alabarda. Questi presumo che se cominceranno a ruoteare la propria arma in mezzo alla folla faranno un bel po' di morti. Allora mettiamo otto soldati che cercheranno di fermare l'avanzata dei contadini. Che loro non ne potevano più di Venezia perché la gente stava qui sull'acqua e si divertiva. E loro a lavorare sui campi tutto il giorno. Vediamo di spiegare una bella armata di contadini. Ecco qua abbiamo ventiquattro contadini contro otto soldati armati di alabarda. Vediamo se effettivamente il forcone riuscirà a prevalere sull'alabarda. Signori non andate a fare il bagno sul canale grande. Ok ecco che le due armate si stanno per scontrare. Indietreggiano. Oh guarda che potenza quella cavolo di alabarda. Ha letteralmente shottato tutti i tizi. No vabbè. Il problema è che anche i contadini adesso si stanno avvicinando. E cominceranno a inforchettare tutti i tizi. Però quegli armati di alabarda riscono a ricaricare il corpo molto rapidamente. Ragazzi non pigliatevi tra di voi mi raccomando. Non male tutti i tizi con l'alabarda ancora sono vivi come potete vedere. Effettivamente ce la stanno facendo a tenere a bada l'armata dei contadini. Guarda che roba. Scusi signore perché lei c'ha la testa più grande dei suoi colleghi ma vabbè dettagli. Resta un ultimo contadino come potete vedere. Ma c'è morto malissimo. E vabbè. Sono delle armate potentissime. Ok basta rimandare. È giunto il momento di testare sul campo di battaglia il carro armato di Da Vinci che costa ben 4.000. Allora ne possiamo mettere un paio da questo lato. Oh ma no. Saranno di una potenza veramente devastante. Da quest'altra parte mettiamo delle unità altrettanto corrazzate come ad esempio i tizi armati di alabarda come ho detto non spaziale. Direi che 16 sono più sufficienti e che lo scontro abbia inizio. Oh mio dio. Voglio vedere questo piccolino all'opera. Ok ha le rotelline quindi si riesce a muovere. Presumo che ruoterà in continuazione in modo tale che i suoi cannoni possano sparare. Oh mio dio le varie unità. Guarda palle di cannone che spara. Guarda come ruota peraltro signor Da Vinci. Tutto bene là dentro. Lo vedo appeso. Cosa sta facendo? I can't mean like a wrecking ball. Ok però devono ricaricare i cannoni. Prima di poter sparare di nuovo i tizi con alabarda si possono effettivamente avvicinare. Vediamo se ce la fanno. Oddio. Si pigliano le peggio pacche in faccia. No vabbè. Signore dove è andato lei? Oh mio dio uno dei carri armati è stato effettivamente distrutto dai tizi con alabarda. Signore. Signore si rialzi. Presto il povero Da Vinci è morto dentro. Malissimo. E tutto nelle mani del secondo car armato che lancia alabarda come non ci fossero domani. Ce la fa? Il signore si è bloccato male. Signore scusi. Le do una manina io. Vede deve andare da questo lato. Occhio. No vabbè le palle di cannone sono potentissime. Aiuto. No. Mi trascinano via porco cane. Resta quest'ultimo tizio che si sta prendendo le peggio palle di cannone. Ed in effetti c'è morto male. Traffitto dalla propria alabarda. Ma no. Ma non ci credo mai nella vita. È potentissima quest'unità. Signore Da Vinci. Avanti si dia una calmata. Santo cielo. Allora. Ho notato che il carro armato di Da Vinci ruota su se stesso. E cosa succede quando un'unità che ruota su se stessa viene messa con le cheerleader? Ragazzi. Secondo me possiamo fare il carro armato di Da Vinci. Tornado Edition. E da quest'altra parte mettiamo un gruppo di soldati armati di scherma. Ne mettiamo almeno una trentina. Ecco qua. Vediamo effettivamente se riusciremo a far partire una tromba d'aria o un uragano. Ok. Ecco che sta girando. Vai. Oddio ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Veramente incredibile. Guarda che roba. Sta risucchiando tutte le unità. Il carro armato di Da Vinci. Tornado Edition. È potentissimo. Guardate che roba. È anche velocissimo. Risucchia tutto. Senza un minimo di rispetto. È una forza inarrestabile. No. Si è fermato. Si è anche rotta. Ma no. Ci sono rimasto male. E mi hanno ucciso tutte le cheerleader. Però funziona. Il signor Da Vinci dentro è morto malissimo. Ma vabbè dettaglio. Ok. Devo abbondare. Due carri armati di Da Vinci. Tornado Edition. E da quest'altra parte mettiamo i figli di Franco. Che hanno scambiato il carro armato di Da Vinci. Per una giostra. Sai quelle che giri con i cavallini e vi dicendo. Eh no. Stanno per avere una brutta sorpresa. Oddio. Speriamo ci siano abbastanza cheerleader. Per far partire entrambi gli uragani. Ok. Un uragano è partito. Perfetto. Mi sta laggando tantissimo il gioco. Anche il secondo uragano è partito. Sta risucchiando qualunque cosa. Guarda che macello. Figli di Franco scappate finché siete in tempo. Mi state estinguendo come non ci fosse un domani. Eh vabbè. Guarda. Una forza inarrestabile. Mio Dio. Ha risucchiato tutto e tutti. Non so quanti figli di Franco siano ancora vivi sul campo di battaglia. Che disastro. Oddio. Si scontrano anche tra di loro. Sembra di vedere i Beyblade. Occhio. No. Sul cane è grande. Signor Da Vinci. Non il cane è grande. Eh vabbè. Guarda che recupera. Guarda. Che recuperone che non ha fatto. Oh mio Dio. Si scontrano anche tra di loro. Ma che roba. Si sollevano tra entrambi. Oddio. Oddio. Cose brutte. Ho visto davvero cose brutte. Ma contro ogni aspettativa. Ce l'abbiamo fatta per davvero. Ma mi prende in giro. Allora. Abbiamo anche sbloccato. Vi ricordate. L'unità segreta. Che sono i Ballooner. Allora. Vediamo un po'. Dovrebbero essere dei tizi. Che sono in grado di sollevare le altre unità. Come potete vedere. Hanno uno zainetto dietro. Che probabilmente. Rilascerà il pallone aereo statico. Non appena loro si aggrappano a qualcuno. Quindi a differenza degli arcieri. Loro dovranno avvicinarsi al nemico. E riuscire ad afferrarlo. Prevedo brutte cose. Allora. Vediamo di metterne. Almeno. Una trentina da questo lato. Da quest'altra parte. Possiamo far volare. Qualche giapponese. Possiamo mettere quindi. Una quindicina di samurai. Che probabilmente li trafiggeranno. Prima che si avvicinino. Ok. Basta che ne afferrano anche solo uno. Guardali. Vogliono solo un po' di abbraccio e amore. Con i loro occhialini. Ok. Ecco che si buttano sul nemico. Oh mio dio. Oh mio dio. Forse ce la fanno. Forse ce la fanno. Hanno dispiegato effettivamente il pallone aereo statico. E stanno tirando su i nemici. Guarda che roba. Stanno tirando su samurai. Come non ci fossero domani. I samurai stanno tirando altre cose. E poi li rilasciano una certa attitudine. In modo tale. Che si spalmino a terra. Guarda che roba. Guarda che roba. Samurai che precipitano come ci sono domani. Vabbè. Ma precipitano anche loro. Ma è una pirlata assurda. Ma sono kamikaze queste unità. Guarda. Qualcuno è anche morto in aria. Signore. Non è l'unità più furba della vita. Oddio. Qualcuno è sopravvissuto in effetti. Guarda. Ci sono aggrappati i 70.000. Che casino. Ma ci sono aggrappati tre di loro. Ragazzi. Non è la lega cumbricola. Ecco qua. Che hanno fatto fuori effettivamente l'ultimo samurai. Ancora prima di sollevarci. Cos'è appena accaduto? Oh mio Dio. In nome della scienza. Un car armato di Da Vinci da questo lato. È una marea di arcieri. Che sparano i palloni aerostatici. Da questa parte. Dobbiamo far volare assolutamente. Il car armato di Da Vinci. Quanti palloncini serviranno effettivamente. Per fargli spiccare il volo. Voglio dire. È un'unità molto pesante. Quindi vediamo se ce la fanno. Guarda palloncini. Guarda palloncini. Ok. Ho sollevato una parte del car armato. Oddio. Non bastano. Non bastano. Ne servono molti di più. Ok. Ok. L'abbiamo girato su se stesso. Va che casino. Va che casino. Ma non ce la fa sollevarlo. Lo solleva solo per qualche centimetro. E poi come potete vedere. Le frecce l'hanno danneggiato effettivamente troppo. È pesantissima comunità. Peccato. Volevo fare il car armato volante. Ce la faranno però tutti questi arcieri. A far volare invece un gigante di ghiaccio. Secondo me muore per le frecce. Effettivamente prima. Eccoli qua. Vediamo un po'. Oddio. Oddio. Non si solleva. Incredibile. Non ce la fanno proprio. Pesa troppo. Oddio. Il signore sembra che stia facendo un moonwalking. Non riesce quasi ad avanzare. Eh vabbè che macello. Ci provano ma niente da fare. Niente da fare. Ci sono palloncini che volano da Venezia come non ci fossero domani. Ed effettivamente dopo 3426 palloncini sparati. Il signore è morto per la quantità spaventata di frecce che comunque fanno danni. E niente. Ti cavolo di palloncini sono effettivamente troppo leggeri. Oddio me ne pentirò tantissimo. Di solito i dragoni sono di quelle unità che si sminchiano tantissimo. Quando comincia a colpirle con le frecce o altro. Vediamo un po'. Ah ma colpiscono effettivamente le persone. E non il dragone che... Oddio spicca al volo. Sono donne che volano i dragoni volanti. Va che roba. Oddio che macello. Eh ma non ce la fanno sollevarli più di tanto. Oddio. Quello è salito tantissimo. Guarda che roba. Stanno salendo tizio. Beh i dragoni a Venezia deve essere uno spettacolo. E dopo un po' riprecipitano giù. Sono ancora vive. Le signorine sono ancora vive contro ogni aspettativa. Ok non so chi resti ancora vivo. Ma i nostri arcieri stanno continuando a colpire chiunque. Ah questo dragone è rimasto fermo per aria. Ma alla fine gli arcieri hanno triunfato. Incredibile. Buono dai. Io direi che per questo episodio allora è tutto. Nel prossimo ci testiamo la nuova unità segreta. Che si trova nella mappa della dynasty. E se lo volete ci proviamo a fare tutta la campagna rinascimentale. Per questo episodio però è tutto. Resto un bel video nella serie. Candidate di noi rinascere. E noi ci troviamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.